Quanti casi stai seguendo? 38 Che cosa ti stanno facendo? Assistenza ai minori Mi chiamo Emily Lily Io posso aiutarti Mi picchiano, vanno giù in cantina Questa bambina ha sentito i genitori dire che vogliono mandarla all'inferno Ho paura Polizia! Lily! Quello di cui ha bisogno è un ambiente sicuro che la protegga Io credo di poterglielo dare Vivi con qualcuno? No, da sola Ora con te Comincia a uscire dal guscio Non cancelli dieci anni di traumi in sei settimane Lily, stai bene? Mi sento Sono passata a casa loro Sua madre e suo padre si barricavano in camera da letto Le persone vicino a lei muoiono Non di sua mano Muoiono Che basta Dimmi che cosa è successo? È stato ucciso ieri notte Massacrato sarebbe più giusto Hai paura? Dovresti averla Lasciali in pace Lasciali in pace Io non sono pazza Emily, vengono a prendermi Vattene! Non si fermeranno Lasciali in pace Lascialo stare! Sì Sì Vattene! Sì Vattene! Sì Vattene! Sì Grazie a tutti.